Dante, combattente con Enrico VII di Lussemburgo, da lui chiamato Enrico, rifiutò di prendere le armi contro la sua città che veniva posta ad assedio. Quello che Dante non condivide è tutto sul piatto religioso e in parte su quello militare. È come se gli rimproverasse d'aver colorato l'arbia di rosso, cioè di aver fatto un massacro a Montaperti. Comunque il poeta accenna continuamente a particolari fisici di Farinata che contribuiscono a farne anche un ritratto della levatura morale. Il dialogo vero e proprio inizia dal verso 42. Farinata guarda Dante un po' sdegnoso, perché non lo riconosce? Egli era nato un anno dopo la sua morte e la sua prima domanda è proprio, chi furono i tuoi attenati? Dante gli risponde, senza deviare il lettore con la storia degli Alighieri. Ed allora Farinata, alzando un po' le sopracciglia, risponde che la famiglia di Dante e di Guelfi fu una fiera rivale sua, dei suoi avi e del suo partito. Fieramente furono avversi a me e a miei primi e a mia parte, ma egli seppe farli espellere per due volte vincendoli, cacciata dei Guelfi nel 1251 e nel 1267. Dante riprende subito a botta e risposta, se li hai cacciati, essi tornarono entrambe le volte, cosa che i vostri, cioè i chibellini, non seppero fare. Parafrasi dei versi 49 e 51 Apparizione di Cavalcante dei Cavalcanti Proprio quando Dante chiude la bocca affarinata, ricordandogli che lui e i suoi alleati furono esidiati, compare improvvisamente sulla scena una figura nuova, quella di Cavalcante dei Cavalcanti, padre di Guido Cavalcanti, uno dei rappresentanti di maggior spicco del dolce Stilnovo e amico intimo di Dante. Egli è Guelfo, quindi Dante ci tiene a non generalizzare tutti i chibellini come regici, come facevano gli inquisitori senza scrupoli in tempo di persecuzione politica. Cavalcante emerge da Lavello, unicamente con la testa. Credo che s'era in ginocchio levata, scrive Dante, al contrario del fiero compagno di supplizio, e si guarda intorno, come per cercare qualcuno, e non trovandolo, piangendo disse, se per questo cieco carcere vai per altezza di ingegno, mio figlio ve, e perché non è teco? Cioè Cavalcante chiede perché Dante ha avuto il privilegio del viaggio ultraterreno per meriti dell'ingegno, e suo figlio Guido no. E Dante risponde nella terzina successiva, e io a lui, da me stesso non vegno, colui che attende là, per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. Cioè dice, che non è da solo, cioè Virgilio, e che comunque Guido sdegnò forse una figura, indicata con il pronome cui, che si riferisce, tese universalmente riconosciuta dagli studiosi, a Beatrice. Chi intendesse Dante con quel cui, non è chiaro. La versione più semplice è che volesse dire che Guido non amò la ragione, simboleggiata da Virgilio, ma non quadra nel senso generale. Potrebbe significare Beatrice, la teologia, la donna che trasmutò in amor dei, l'amore che aveva acceso nel giovane Dante, che mosse Virgilio. O potrebbe significare Dio, il quale non è mai nominato dall'inferno, ma vi viene all'uso solo con pronomi. Forse, la più coerente è quella che indica Beatrice, poiché in gioventù, sia il poeta che il suo amico Guido, erano rimasti affascinati dall'amore che pregnava il dolce sinnovo, ma la morte aveva consacrato Beatrice ad un severo progetto di salvezza per Dante e l'inattingibile oggetto del desiderio era divenuto strumento operativo della grazia. In questo modo, gli itinerari intellettuali dei due amici si erano divaricati irreparabilmente. L'orizzonte speculativo del pensiero di Guido era rimasto improntato all'animismo fisico di Epicuro, e all'aristotelismo radicale degli averroisti, per i quali l'amore, figlio dei sensi, era fonte di impulsi, irrazionali e agonia del desiderio. Ma c'è un punto nella risposta di Dante che sbigottisce Cavalcante, cioè che il poeta usi un passato remoto ebbe. Come, dicesti, egli ebbe, non vivelli ancora? Cavalcante pensa che il figlio sia morto. In realtà, all'epoca del viaggio immaginario, aprile 1300, egli era ancora vivo, sebbene morì alcuni mesi dopo, nell'agosto 1300. E, visto che Dante esita nella risposta, ricade Supino nel sepolcro e sparisce dalla scena per la disperazione. L'episodio di Cavalcante è servito, oltre che per mostrare anche un guelfo tra gli eredici, anche per dare lo spunto alla spiegazione sulle capacità profetiche dei dannati che verranno spiegate più avanti nel canto. Ripresa del colloquio con Farinata e sua profezia. Versi di Dante Ma quell'altro magnanimo a cui posta restato Mera non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò a sua costa e disse Ma non cinquanta volte fiare accesa alla faccia della donna che qui regge che tu saprai quanto quell'arte pesa. Parafrasi Ma quell'altro magnanimo alla cui richiesta mi ero fermato non cambiò aspetto, né mosse il capo, né piegò il busto e chiese Ma non si illuminerà cinquanta volte la faccia della regina che qui impera che tu conoscerai quanto pesa quell'arte. Nella completa assenza di coralità fra le anime dannate Farinata continua a parlare come se l'apparizione di Cavalcanti non fosse avvenuta come volendo esprimere la sua superiorità. Quindi Farinata riprende esattamente da dove ha lasciato il discorso. Se i miei chibellini hanno imparato male l'arte di ritornare dopo essere cacciati ciò mi tormenta più di questo letto infernale. Parafrasi dei versi 77 e 78 Nella versita successiva a